Salve amici, siamo da Lidl, dopo tanto tempo, andiamo! Che cos'è questa amore? È il mango, buono! Tu l'hai mai provato il mango? Sì, è buono! Qui ci sono le occasioni, mamma mia! Questa qua? Sono le quiche! Ah, questa è con la cipolla? Buono! Questa è con il formaggio, mamma mia! Il fellafelle! Il fellafelle, sì, il fellafelle! Che sossi cosa siamo? I wrap, uova e formaggio, buone! Come vi è? Aspetta, fammi vedere quante calorie! Ah, manca assare, 190 grammi! Aspetta, no, sono apparecchi a 229 calorie, mamma mia! È quasi buono, no? Eh sì, però, sono tantissime! Ha erba cipollina, buona! Io ho le unghie rovinatissime, non ci fate caso! C'è il seitan! Oddio! La biofeta, amore! Ma non ha una faccia, non lo so com'è! Ah, da qua si vede, no! Non mi ispira! Questi sono nuovi, invece! Ah, questi sono senza lattosio! Eh, sono buoni! Però non sono... Aspetta, fammi vedere! Senza lattosio, ma è piena di... Sono pesante, però! Questi sono buoni, secondo mio amore! Dessert cremoso! Ah, però è dessert! Ah, 100 calorie! Cioè, alla fine sono più calorino gli yogurt! I kettlebell! Ma vuoi il kettlebell? Ah! Aspetta, amore! Amore, è pesante! Ok! Per me è pesante, sì! Quanto posto un kettlebell? Ma che la famiglia? Eh, ma... Amore, la tazza riscaldata, no, che cos'è? No! Oh, sì! La tazza riscaldata, amore! Di plastica, com'è? No, non è riscaldata! È un normale asse... Lo sai che i cinesi hanno quelle riscaldate? Sì, sì! Ah, bello allora! Che bello! Che soddisfazione! Vedi, a noi mancano le cose basilari, proprio, qua in Italia! La tazza riscaldata! Ma perché stiamo qua, amore? Perché? No! Andiamo via! E che hanno messo qualche altra novità, no? Mi sembra di no! No, ci stavano già! Sì, sì, c'erano già! Taglia carta! Beh, le cose per, vedi? Questa che è questa cosa, amore? Ah, sì, perché mi serve quella per distruggere le carte a me! Ah, queste sono buone, queste me le prendo a me perché erano buone! Ci sono, no? Queste sono quaderni, se questi sono quaderni, ma che cos'è un mouse? Sì, c'è un mouse! No, queste sono, no, queste sono, vedi, senza... Quanto stanno? Ha un euro e quindici al pezzo! Due ore e quarenta nove! Due ore e quarenta nove! Ah, povere! Ci sono ancora le cose per San Valentino! Che bello! Noi non ci siamo venuti prima, sì! Non sono belle queste qua per fare un regalino, però! 9,99 euro! Bello e carino! Quello che vi cuore c'è! Sì, questo! Questo è bello! Ah, belle queste qua! Questo mi servono, amore! Ah, sì, quelli ti portano a vedere le lezioni! No, non mi porti a vedere la tua collezione di farfalle! Eh, che...quanto stanno? Tre ore? No, costano troppo! Me ne serve una a me, eh! No, no, non si può avere una! La borsa sportiva, vedi, amore? Eh? Oh, via, po'! Ah, e come la tengo io, però, dice? Questa è bella, vedi, amore? È una borsa papalestra! Ah, è andata, no? No, non ci pensare, però! Che è sto coso, amore! È proprio per... Multifunzionale! Il costume? Sì, questo... Il tuo costume? È questo! Ah, dai, a me! Santo, subito, c'è la passione per Superman! Che altro ci sta? Ah, dobboli! No, ci sta pure...come si chiama? Vimma! La clava! Underwoman! E vabbè, ma uno fa... Pure per le feste, quelle alchiuse, capito? Bimbi! Ah, sono cose belle, però, sa! Eh, sì, parrucca è una parrucca! Ha pochissimo, qua a te, una parrucca! Belle! Un brallo che si chiude al contrario! Quanto costa? 10 euro! Ma come si apre, soprattutto? Questo perché l'acqua c'è, non capito? Eh, c'è alcun...ah, sì! Oh, che belle queste! Shimmer Shile! Chi? Shimmer Shile! Che cacchio si chiude? Sono famoso! Frozen! Bello Frozen! Che carino! C'è anche Superman femmina! Superwoman! No, questo Frozen è fatto bello, però, vedi, amore! Che altro ci sta? Vabbè, questo qua è gattino! La piratessa! La piratessa! Principessa! L'unicorno, amore! È un unicorno, è bellissimo! Ci stanno pure per maschietti, però! Cos'è l'elefante? A me non mi serve vestirmi, sinceramente! Io vado nati io! Mazza! Quanto costa il mocio con la mazza? Ah, no, vedi? Non c'è il prezzo, infatti! Non penso che costa tanto, però non c'è il prezzo! Corazioni per la casa, in legno! Ceramica, vedete di vedere! Sì, 3,99, 4,99! Non mi se mi danno più idea di Pasqua, dovevamo? Non mi guarda poco! Eh sì, infatti sì, ma quelle già, loro sono avanti! Guarda questo coniglio, amore! C'è un'altra bellissima! È un coniglio, sopra ci metti che ne sono i dolcetti, un piatto con i dolcetti! Fammi vedere questo qua, adesso! Sono vasi! Sì, sono vasi! Vabbè, sono carini! Già sono avanti, molto, mi sa molto di, già di Pasqua! E qua? Ah, amore! Queste erano le cose per San Valentino, che... Sì, erano carine come costa! Come stanno guardando, guarda! Mmm! Palle! Ah, sono belle però, veramente! Guarda queste cose! Guarda queste, sono belle! Guarda questa, la palla! Oh, come sono carine! Sì! Com'è? Hertz? Sì! Ecco! Sono carine, si incastrano! Vabbè, forse sono più belle quelle quei cuori, amore! Ah, sono più belle queste! Eh, sembra incastro, però! Vedi? Ma quello che incastra bene, cavolo! Ma questo non so, quelle... Ah, cambiano il colore, vedi? Perché quello che incastra bene? Non lo so! Beh, questo è più sfigato! Questa è la femmina! E questo è il maschio! Ma questo invece sono tutti! Sono ancora i giubinetti, amore, quelli vecchi! Ah, belli i stivaletti, però, eh! Carini i stivaletti! Oppure questi, bassi, vedi? 16,99! Reggisene! Facciami il completo! Sì! Io faccio il film e tu fai... Come si chiama? Fred! Oh, belli i zainetti, però! Sette ore e 99! Beh, sono carini, però! Ah, sì, è piccolissimo! Sono questo tipo qua, c'è rimasto, però, mi sa, eh! Non vuoi? No, no, no! No, perché tante cose le ho! No, vedi, bro, eh! Ti servono! 100 euro, sì! Non lo so! No, 4,99! No, non sta scritto! Non sta scritto! Ma perché non lo scrivete? Mamma, belli i sui cioccolati! È cioccolato, ma! Ah, questo è ancora le cose americane! Buono! La barba di chiunque? Mmm, di bicchiù! E gli altri, a me piace! Buona! Mamma mia! Ma il massimo era per questo che... Eh, su tutte queste cose tartellette, cos'è... Ah, queste cose... Sì, sì! Questa da la propria, ma... Si sente l'odore da fuori? Ci hai fatto caso? No! Vai, sento l'odore! Questi qua, limone! Ah, raga, guardate sta brioche! Mamma mia! Questa deve essere buona! E queste sulle greppe! No, forse... No, questa è sulla cioccolata, vedi? No, ciò è sulla cioccolata! Eh, marmellata... Eh, marmellata... Mini crepe... Questa cos'è sta cosa, ma? Sena per francese! Ah, questo è per fare le cose, ma? Ah, questo è buono, ma? Sicuro, perché questa è con la crema... Con la crema... Pasticcera! Mamma mia, buona! Cos'è più vecchio? Ricco di proteine, fibre... Cos'è questo qua? Per i topi? No, cioè... Lupino mix con quinoa! Soia mix, riso integrale... Ah, vabbè, su tutte le cose... Cereale... Qua strawberry, vanilla, flavored, ice cream... Mamma mia, che buone! Sono gelate! Qua che ci sta? Qua serve? Eh, infatti, sì! Vabbè, queste sono quelle a settimana greca, mi sembra! Oggi sta tutto mischiato, tutto... Tutta roba... Veggie Burger... Sì, ma se non mi sbaglio, è tutto... Questa è spiced pear! Quello là è con i fagioli... Un hamburger con i fagioli... Sì, sta tutta sta linea, diciamo, hamburger vegetariane... I prezzi sono buoni, però... Sì, sono tornati i burri questi qua, ma... Questa cosa qua la mettono sempre... Olio, ecco... Olio capelli, sì... Questi qua... Questi sono troppo buoni, ragazzi... Li trovate, prendeteli, eh... Sono veramente buoni... E poi sono rimaste queste cose qua... Ah, guarda... Che sfizio... Bubble butt... Guarda, amore... I sali... Queste sono cose sfiziosi... Non l'ho mai visto... Ma hanno mischiato tutto, praticamente... Amici, salve... Allora, non ci siamo visti per un po' io e voi... Ma dato che qua tra le influenze varie ed eventuali... Come state? Allora, ci siamo trovati oggi da Lidl con Saint Fest qua, Saint Now... Perché praticamente... Cioè, allora... Il discorso è... Noi dovevamo venire prima... Però io non sono stata molto bene... Varie cose... Non vengo da Lidl da parecchio tempo... E pensavo di trovare... Quella uscita nuova delle creme alla mandorla... Insomma, quella Sienne Nature... Doveva far uscire queste creme così... Dato che tra l'altro la mia scorta è infinita di creme... Sta anche per consumarsi... Ho detto... M'ho scivato e vediamo un pochettino che cosa c'è... Non abbiamo trovato una cippa... Cioè, nel senso, le cosine c'erano... Però c'era un po' di confusione... E quelle cose là... Secondo me non... Questo Lidl qua non l'ha vista nemmeno... Per cui... Rienti... Io ci sono rimasta malissimo... Perché doveva uscire un altro tipo di schiuma... Per il viso... Insomma, la mousse... Quella che mi piace tanto... Però alla mandorla... Io poi se leggo vaniglia, cocca e mandorla... Esco pazza... Ecco, quindi... Ma non ho trovato niente... Quindi... Che dobbiamo fare? Ci sono rimasta malissimo... Ma alla fine abbiamo comprato, come al solito... Caramelle su caramelle... Perché... Lo sapete che queste sono le nostre preferite... Anzi... Ve le consigliamo... Perché comunque le prendiamo sempre... Ci troviamo bene... E poi ho preso le matitine... Che queste matitine sono ottime... Quando escono queste uscite qua... Comunque costano poco... Quindi... E niente... Santo Su... Purtroppo è andata così oggi... Ma in ogni caso... Perlomeno... Ci facciamo compagnia così... E nulla... Adesso andiamo a pranzo a casa... Ci sentiamo... Ci vediamo... Ci sentiamo... Sì... Ciao... Ci vediamo in un prossimo video... E nulla... Comunque spero che... Anche se... Non c'era chissà che... Comunque vi faccia compagnia... E ci vediamo presto... Ciao...